Arrivo, Sherry. Tieni duro. Sì, sì, sì. 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 Annette ha detto che il laboratorio è vicino. Aspetta. Quella funicolare. Sì. 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 Forza. Ok. Ecco qua. Tieni duro, Sherry, ok? Andrò tutto bene. Ok, spero di non aver dimenticato niente. Da qui non si torna. Questa vettura è diretta al Nest. Non uscire fino a destinazione raggiunta. Ehi! Tutto bene? La tua giacca è così calda. È di mio fratello. Mi ha detto che porta fortuna. Come avrei fatto senza di te? Mi prendi in giro. Te la stavi cavando alla grande. Poi sono arrivata io a metterti nei guai. Tieni, questo è tuo. Non lo voglio. Perché? Che dici? È bello. Me l'ha regalato mamma. Per il mio compleanno. Volevo solo che fossi a casa più spesso. So che pensi che a tua mamma non importi, ma... Ehi. Sherry, dai. Ehi, tieni duro, ok? Siamo in arrivo al Nest. Tranquilla. Ci sono io. Resisti. Cerco la medicina. Sherry, va tutto bene. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Benvenuti al Nest. Godetevi la visita. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Riposati. Ok. Vediamo. Qui dovrei trovare qualcosa. Agente antivirale. È questo. Non c'è alcun dubbio. Ehi. Ehi, Sherry. Devo andare. Tu aspettami qui, ok? Io torno subito. Mi promesso. Ma... Mi promesso. Grazie. 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 I nostri menu vengono incontro alle vostre esigenze con le più avanzate tecnologie. Provate i nostri piatti, ideali per una sana alimentazione. Grazie. Grazie. Figlio di puttana! Grazie. Che cazzo di problemi ha? Grazie. 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 Venite! accesso consentito solo al personale autorizzato accesso consentito solo al personale autorizzato l'accesso è vietato ai visitatori a Grazie a tutti. 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 Wow. 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 Wow.